Sono Pietro Leoni, presento con un grande piacere che coordino il corso di web design, nonostante la mia giovane età, ringrazio Dario e Andrea per la fiducia, e nonostante io lavori in questo settore da sei anni, comunque sono relativamente pochi, ho notato una trasformazione della mia professione ogni anno, ed è per questo che l'obiettivo di questo corso è proprio trasmettere questo concetto ai miei studenti, quindi di fargli capire che il web design non è solo web design, e capiremo su questo. Io oggettivamente mi sono accorto che il web design io me lo immagino molto come una figura di questo genere, quindi il famoso multitasking, che poi i giovani di oggi apprezzano molto, perché lo sono, e quindi sono molto abbezzi a questa modalità di lavoro. Inizio sempre il mio corso con questa domanda, perché per me è importante comprendere e capire cosa i miei studenti hanno ben in mente sulla parola di web designer, e quindi chiedo sempre a loro che cos'è e chi è il web designer. Poi è ovvio che io porto una mia esperienza lavorativa, che magari condivido anche con altri colleghi, e vorrei anche puntualizzare sul fatto che questa non è una scienza esatta, e quindi è sbagliato trasmettere dei concetti per esatti e per precisi al 100%, ma in realtà dobbiamo comprendere i periodi storici, la cultura e anche le modalità, specialmente anche per i paesi, perché come io svolgo questa materia, questa disciplina all'interno di un paese, ma addirittura all'interno di una regione o di una città, vi assicuro che è totalmente diversa rispetto ad altri paesi, altre lingue e altre culture. Io riprendo questa definizione da Wikipedia, ma che poi in realtà è spesso condivisa dai miei studenti, che in realtà non è sbagliata, perché il web designer è colui che progetta e crea singole pagine web. Io non dico che è sbagliata, ma credo che sia inesatta o incompleta. E per questo io ho riformulato un po' una mia visione di questo tema e di questa professione, perché io credo che il web designer è una figura professionale che cura sia l'aspetto tecnico e grafico di un sito web, e già qui capiamo che è molto più complesso di disegnare e dipingere singole pagine web. E ho evidenziato quella parola, quindi la parola della qualità, quindi la qualità di un sito web, che andiamo subito a spiegare. Cosa vuol dire qualità di un sito web? Qualità di sito web vuol dire mettere in sinergia più attività, ok? Ed è per questo qui torniamo al discorso del multitasking, ovvero la UXD, quindi User Experience Design, quindi creare un design che permetta agli utenti di capirci qualcosa. L'ho semplificato giusto per parlare base base, mi piace non parlare troppo tecnico, perché è una materia che va compresa prima di poterla fare. E quindi gestire tutta la parte di infrastruttura tecnica, questo non vuol dire un domani mettere mano proprio a livello sistemistico, ma intanto comprendere e capire cosa c'è dietro a internet. Io spesso chiedo come funziona internet, tutti utilizziamo il nostro telefono, stiamo connessi a H24 e poi non sappiamo neanche cosa c'è dietro, quindi che cos'è un server, che cos'è internet. Capire il concetto di nodi, di rete è molto complesso, anche se poi si può comprendere, ma se non lo capiamo è difficile entrare in questa materia. Secondo step, originalità e coerenza. La coerenza è determinante. Io spesso vedo dei siti, anche giustamente realizzati dai miei studenti, che sono controcorrente, ovvero non sono coerenti con il proprio target. Ed è per questo che noi dobbiamo entrare nell'ottica, gli studenti devono entrare nell'ottica di affrontare questa materia con coerenza rispetto al target di riferimento. E per questo non è possibile eseguire e quindi svolgere questa disciplina non avendo concezione di nozione di marketing, nozioni comunque anche tecniche e di comunicazione. E specialmente strategia, perché poi ricordiamoci che un sito web è un mezzo di comunicazione. Andiamo avanti. Questa è un po' una mezza provocazione, però racchiude un po' il senso di questo corso, perché il web design non è assolutamente un artista. Ovvero, ora non prendiamolo troppo strettamente questa frase, ma capiamo il payoff, ecco. Perché non dobbiamo creare un qualcosa che piaccia a noi, quindi a noi web designer, né tantomeno al cliente, ma dobbiamo creare qualcosa che serva. Attenzione al significato delle parole. Serva, piaccia, è ben diverso questo concetto. È molto difficile, perché spesso cosa succede? Noi affrontiamo la progettazione di un layout di un sito vedendolo dal nostro punto di vista, che credo sia sbagliatissimo. Ora, poi ci sono anche le eccezioni, chiaramente, perché ci sono delle persone che hanno una sensibilità molto alta e quindi riescono anche a realizzare tramite una propria sensibilità un qualcosa che poi funzioni effettivamente. Ma la sensibilità di creare un qualcosa che serva agli altri, quindi vedendolo dalla parte dell'utilizzatore finale. Perché poi ricordiamoci che i siti web vengono usati dagli utenti, dalle persone. Quindi, se noi non siamo in grado di capire gli altri come riescono a interpretare e quindi a navigare il nostro sito, è chiaro che non abbiamo fatto gol. Poi, se piace a noi, va bene, lo guarderemo solo noi. Comunque, arriviamo all'interno proprio della didattica del corso, perché la panoramica e l'obiettivo di questo corso è vista sia in ottica moderna e attuale, quindi vengono, utilizziamo strumenti e piattaforme moderne e quindi diffuse per dare anche modo al nostro studente di poter affrontare anche, di rispondere a una domanda di mercato molto alta. Quindi, ovvero, l'utilizzo di una piattaforma che sicuramente ha preso molto piede negli ultimi anni. Alcuni numeri, WordPress è famosissimo, quindi probabilmente tutti lo conoscono, ha oltre il 60% del mercato di CMS, dati che sicuramente non sono super aggiornati, ma perché cambiano di mese in mese, ecco. Però sappiate, così, dati alla mano, che il 30% dei siti online oggi sono realizzati con questa piattaforma, siti nel mondo, quindi parliamo di un grandissimo numero di siti web. Oltre a avere un facile apprendimento tecnico, ma andiamo avanti, avanti. Ma non solo questo. Perché? Perché io ho visto evolvere anche la mia professione questi pochi anni in cui lavoro, partendo dall'utilizzare alcune piattaforme e poi spostandomi su altre. Ed è per questo che il corso è principalmente svolto a fornire degli strumenti e un metodo di lavoro agli studenti. Perché? Perché WordPress è una piattaforma e si evolve. E abbiamo visto anche con questa emergenza del Covid, come il mercato, il mondo del lavoro cambia all'improvviso da un giorno all'altro. Quindi non dobbiamo radicarci all'utilizzo di una singola piattaforma e avere la testa bassa, ma cercare di vedere anche il mondo del digitale, non solo del web design a 360 gradi, stando attenti anche alle nuove tecnologie e a come il mercato e il mondo si evolve. Ed è per questo che io trasmetto un metodo di lavoro. E questo permette agli studenti di cercare di riadattarsi, quindi di essere molto elastici, no? Come diceva Bruce Rick, l'acqua, no? Che passa, dobbiamo essere molto elastici su questo. Quindi, in maniera molto veloce, vediamo. Cosa non imparerai in questo corso? Non imparerai a programmare applicazioni web. Quindi questo non è un corso di programmazione, che in maniera tecnica è il web developer, no? Come figura professionale. Programmare siti web da zero con linguaggi più famosi, quindi PHP, JavaScript, eccetera. Non è un corso di programmazione, lo ripeto. Programmare template da zero e capiremo il perché, gestire da zero un'infrastruttura informatica, assolutamente no. Vediamo invece una bellissima carrellata di cose interessanti che verranno affrontate durante questo corso, ovvero realizzare siti web dinamici attraverso l'uso professionale. Volevo sottolinearlo perché spesso WordPress viene associato a una piattaforma non troppo professionale a livello proprio di business, ma in realtà capiremo durante il corso che non è così. Creare siti web moderni attraverso l'utilizzo di builder design ed è per questo che grazie a queste tecnologie non importa e quindi non è necessario partire dalla realizzazione di un template totalmente da zero perché possiamo con degli strumenti agire sui layout. Capire come gestire la qualità di un sito e quindi tutto il discorso di performance, di regole cognitive, di font, di colori. Quindi anche tutta la natura di call to action, di catturare l'attenzione, la composizione dei singoli elementi e la posizione di singolarmente l'interno di Apache. Installare correttamente, ok, tutta la parte di installazione della piattaforma, ma non vedremo anche delle basi che poi sono importantissime come l'HTML e il CSS che sono il cuore pulsante del web design. Capire il processo, il flusso di lavoro di un sito web e quindi partire anche da una natura strategica del metodo di lavoro. Perché la realizzazione di un sito web fa parte di un processo di comunicazione, di una strategia che un'azienda ha bene in mente. Ma questo non vuol dire che il sito web è il primo step. In realtà partiamo, e questo lo vedremo durante il corso, come fare un audit di mercato, capire anche chi è il nostro target, i nostri obiettivi e poi dalla creazione di un brief e quindi da un documento strategico, come poi quali sono gli step per realizzare un sito web in base chiaramente agli obiettivi di mercato. E poi ovviamente alla pubblicazione e alla creazione di un sito web. Vedremo, quello poi dipende anche dal livello degli studenti, dal tempo che rimane, la possibilità di affrontare delle soluzioni di commercio elettronico che specialmente in questo periodo stanno prendendo molto piede. E ci tengo anche a precisare questo aspetto, perché il corso non è uguale tutti gli anni. Io cerco sempre di evolvere e di introdurre qualche novità all'interno dei vari corsi che svolgo durante l'anno, perché un anno in questo settore corrisponde a quasi dieci anni di evoluzione tecnologica. E quindi vediamo veramente anche step by step, se ci sono delle novità, di introdurle. Questo a me piace come modalità di insegnamento. Grazie. 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 Grazie.